Da Piacenza al Brasile per affrontare un percorso professionale entusiasmante. Marcello Berni, giovane piacentino di 25 anni, ha intrapreso questo percorso accademico che l'ha portato in Brasile grazie a un progetto di doppia laurea. Sotto a questa possibilità di poter trascorrere un periodo di tempo all'estero, più precisamente in Brasile, presso la facoltà di odontoiatria dell'Università di San Paolo. È un'esperienza che mi sta dando tanto, è un'esperienza che mi rimarrà per sempre. Al mio arrivo nell'Università ho subito potuto notare la differenza perché gli studenti imparano facendo in questa Università. Le strutture sono molto più grandi, c'è una quantità di sedi da denti di poltrone per effettuare le visite che è molto maggiore, quindi l'opportunità e il tempo di esposizione sono sicuramente a favore. Tra le esperienze più significative che Marcello ha vissuto c'è quella in una riserva territoriale creata per alcuni popoli indigeni e situata a nord del Mato Grosso. Abbiamo quindi chiamato casa per casa tutta la popolazione, dai bambini agli anziani. Un'esperienza che ha arricchito Marcello dal punto di vista professionale e umano. Ho potuto passare del tempo, ho potuto impiegare il mio tempo proprio per insegnare magari ai bambini che avevano più bisogno di attenzioni, il valore dell'igiene orale, del lavarsi i denti tutte le volte che si finisce di mangiare, che non è una cosa scontata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.